La prima cosa che ho da dire è fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento che ha messo in campo, abbiamo lavorato con grandissime difficoltà durante tutta la settimana e la squadra è andata in campo con la faccia giusta, con l'approccio giusto per portare a casa la vittoria nonostante tutte le difficoltà. La seconda cosa è fare i complimenti e ringraziare i tifosi di Forlì perché oggi è stata una dimostrazione di quanto la città e la tifoseria ci tenga alla società, alla squadra, alla paracanestro e penso che se continuiamo ad andare avanti in questa direzione e con questo connubio fra la squadra e i tifosi possiamo continuare a fare strada e a prenderci delle soddisfazioni. Innanzitutto faccio i complimenti a Forlì per la vittoria, per una gara in cui sicuramente nell'arco di 40 minuti ha meritato in quanto regolarità della prestazione. Oggi per noi non era semplice anche se come avevo già detto nel pre partita eravamo venuti qui con la voglia di fare bene e credo lo abbiamo dimostrato anche se nel primo tempo siamo stati oggettivamente poco lucidi.